ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò la posizione di tutte le monete blu della settimana 8 la prima moneta si trova qui al castello corallino in alto la nuova località per intenderci e le monete blu nel caso non lo sappiate si trovano in oggetti che vanno distrutti quindi sono monete nascoste quando vi avvicinate ad un oggetto emanano un bagliore blu quindi non potete sbagliarvi la prima moneta si trova qui spero di non incontrare nessuno perché essendo una nuova località c'è sempre la bolgia quindi entrate qui eccola qua questa è la prima moneta blu distruggete questo pilastro e voilà la prima è recuperata la seconda moneta blu si trova qui al ponte della fattoria frenetica qui praticamente dove avete recuperato la moneta verde solo che questa volta vi trovate dall'altra parte del ponte quindi arrivate qua ponte della fattoria frenetica atterrate e distruggete questo chiamiamolo passaggio a livello non so cosa sia e voilà questa è la seconda moneta blu la terza moneta blu si trova qui sul ponte nei pressi dell'autorità il ponte che conduce alla fattoria scusate la fattoria la foresta frignante non so perché ho detto fattoria verso la foresta frignante praticamente questo ponticello non potete sbagliarvi come sempre del resto quindi atterrate da questa parte quindi verso la foresta e non la fattoria attenzione e distruggete questo cartello che dice slow ti rallentare praticamente questa è la terza moneta blu la quarta moneta blu si trova nei pressi di brughiere brumose o meglio tra lago languido brughiere brumoso e brumose mamma mia e gatto grill praticamente qua quindi tra queste tre località brughiere lago lago languido e gatto grill scendete qui e rompete questo oggetto qua praticamente vedete il bagliore blu lo rompete e questa è la quarta moneta blu la quinta e ultima moneta blu si trova in una località che avrete visitato almeno una volta nella vita ed è la casa abbandonata di roccata dove è presente un bel forziere sulla cima nei pressi di parco pacifico qui praticamente vedete sicuramente l'avrete visitata almeno una volta da qualche quando è uscita e la moneta blu si trova praticamente ai piani inferiori nell'orso distruggete l'orso e voilà questa era la quinta e ultima moneta blu